Malvin Metusci ha trionfato nella 35esima edizione della Corsa del Sagacino, un trionfo di famiglia perché poi tuo fratello è arrivato secondo. Sì, un bel trionfo, si può dire, grande gara con quello risultato molto importante e poi anche il fratello è arrivato secondo, una bella soddisfazione, non solo mia ma anche per lui. Com'era il percorso, com'era il livello di questa edizione? Il percorso è cambiato dall'inizio, dalle prime volte che veniva fatto, questa volta l'ho fatto nel centro storico, su e giù direi abbastanza movimentato, bello, molto bello. Il livello c'era abbastanza, non si può dire una gara con un livello altissimo però il livello c'era lo stesso, purtroppo le gare quando si partecipa chi c'è c'è. Questo successo che cosa rappresenta nella tua attività? Te lo porterai tra i tuoi ricordi? Ma è un successo importante, sono gare che si preparano durante l'anno, poi vinta in casa fa sempre piacere. Massimo appuntamenti? Massimo appuntamenti il 12 e il 13, se non sbaglio, nel campo d'Atleti Carezzo, 1.500-5.000. Massimo appuntamenti